E' tutto vero amici miei, è tutto vero, oggi è il giorno dopo l'eliminazione ai mondiali dell'Italia, l'Italia che non parteciperà ai mondiali ed è tutto vero, questo è il brutto, perché ogni qualvolta che ci penso a questa notizia mi viene da piangere, ho gli occhi gonfi, non me ne vergogno perché questa notte non ho dormito, ha fatto bene, mi sono svegliato, ho realizzato, ho pianto, perché immaginarsi un'Italia, non giocare mondiale e dei mondiali senza l'Italia è un qualcosa di drammatico, calcisticamente parlando e calcisticamente parlando per fortuna il calcio non è tutto, c'è da dire però che in un evento del genere mi sento di dire che anche in maniera stupida, forse anche troppo superficiale, il calcio in questo senso è molto importante, doveva essere molto importante perché il calcio, questo è un pensiero ignorante, ve lo dico in anteprima, il calcio ogni quattro anni in Italia era l'unica cosa che univa il popolo italiano perché tra la nostra popolazione si sa, ci sono rivalità, differenze politiche, sociali, problemi, insomma la realtà nostra la sappiamo qual è ragazzi, ogni quattro anni però il popolo italiano si riuniva e sognava, sognava con le bandiere, i colori, il folklore, l'amore e l'orgoglio di essere italiani, è brutto da dire, solo per il calcio, solo per un mondiale, sì, probabilmente sì, anzi sicuramente sì, però era forse l'unica cosa concreta che univa tutti, che ci faceva sentire tutti fratelli d'Italia, veramente ragazzi, molto brutto dirlo, molto brutto dirlo perché la vita non è solo il calcio, anzi il calcio è un di più nella vita, ma davvero pensare all'Italia calcisticamente parlando ti viene da pensare ai mondiali, e invece non ci saremo, invece non ci saremo, per me questa uscita dell'Italia è proprio la sintesi perfetta anche di quella che è l'Italia-nazione, l'Italia sotto tutti i punti di vista, una nazione che non dà largo ai giovani, mi viene da pensare proprio alla partita di ieri, con un venturetta vecchio che sono l'emblema di un'Italia vecchia, un'Italia che ormai non ti dà più spazio, non ti dà manco più la forza di sognare, un'Italia che ti tappa i sogni, ti taglia le ali, non ti fa sognare, non ti dà possibilità di fuoriuscire, e mi viene da pensare a Insigne, gente come Insigne, il Sharawi, Bernardeschi, giocatori di qualità, Giorginio, giovani, che sicuramente meritavano una possibilità in più perché avrebbero aiutato l'Italia, intesa come squadra, a venire fuori, a superare un ostacolo che non era affatto insormontabile, ossia la Svezia. Non è stata fatta questa cosa, non è stata fatta questa cosa, le responsabilità sono di venturetta vecchio che per me sono i responsabili principali di questo schifo, di questa sconfitta che avrà anche ripercussioni nel paese, perché il danno comunque sarà anche economico, di questa non partecipazione mondiale da parte per l'Italia. Poi vengo a sapere anche che in caso di qualificazione ci sarebbe stato un premio ai giocatori, questo mi fa abbastanza schifo, perché tu che indossi quella maglia sei tenuto a difendere quella maglia e non devi pensare ai soldi. È vero che i calciatori fanno tutto per soldi, però una partecipazione mondiale la si deve all'orgoglio, all'orgoglio di rappresentare tutti gli italiani nel mondo. Voi non avete avuto questo onore, non ve lo siete sentiti probabilmente, questo mi fa abbastanza schifo, onestamente. Io mi auguro solo che con questa bruttissima pagina, perché questa è una pagina schifosa della storia dell'Italia calcisticamente parlando, ma che ripeto avrà anche ripercussioni nell'Italia-Stato. Io mi auguro che una volta che si tocchi il fondo poi si possa soltanto risalire, no? E mi auguro adesso che si prendano delle decisioni forti, perché è impensabile vedere giocatori talentuosi a negare davvero nel tatticismo esasperato italiano, giocatori di talento non poter giocare perché non sanno giocare in uno schema antico. Noi dobbiamo valorizzare la gente di qualità, che sia nello sport o nella vita in generale, nel lavoro, in qualsiasi campo che la vita ti offre, no? E dobbiamo avere le palle, il coraggio di dire basta, di staccare il cordone ombelicale con chi... con la parte anziana, con chi ci ha fatto anche gioire negli anni scorsi, ma è il momento di cambiare, è il momento di voltare pagina, di ripartire più incazzati di prima, di pensare al nostro futuro, ma di farlo concretamente, quindi cambiando qualcosa, perché se non cambi nulla, questa sarà solo la prima di una brutta pagina della storia italiana calcisticamente parlando, perché c'è, c'è, ripeto, la possibilità di cambiare questo paese, ma deve cambiare tutto, calcisticamente parlando e non. Rimanendo in tema calcistico, perché altre cose, onestamente, non mi voglio dilungare troppo ragazzi, io ripeto, mi piacerebbe vedere un'Italia calcisticamente parlando che provi a premiare, provi a premiare la qualità, l'estro, la fantasia, basta pensare alla tattica, basta pensare al catenaccio, c'è un'evoluzione, si va avanti, si progredisce, la Germania ha snaturato il suo modo di giocare ed è tornata ad essere campione del mondo, ed è la nazionale più forte che ci sia, perché ha battuto forte su una strada, quella della qualità, dei giovani, del rinnovamento, perché la Germania ha le palle, la Germania è intesa come nazionale, ma anche come stato, noi no, noi no, ci nascondiamo dietro gli altri, non abbiamo il coraggio di fuoriuscire, anche perché non ci viene data l'opportunità, sicuramente, e adesso mi auguro che questa opportunità concreta ragazzi ci venga data, venga data al calcio italiano per svoltare, perché il calcio italiano ha bisogno di svoltare concretamente, perché questa sconfitta, questa figura di merda apocalittica non deve rimanere così inosservata, deve essere una pagina che fa male, ma una pagina che deve essere l'ultima pagina, e si deve avere il coraggio di svoltarla, di cambiare il calcio, mettere le squadre B, lanciare i giovani, dare più possibilità alla gente che sa giocare a calcio, meno tatticismo, più divertimento, il calcio è questo, io non posso pensare che l'Italia sia uscita contro una squadra del genere, perché si è rifiutata quasi di giocare a calcio, perché ha pensato quasi prima a non prenderle, perché in uno schema non c'è spazio per la gente di qualità, io non posso pensare a questo, e ripeto, Ventura e Tavecchio sono l'emblema di una nazione e di una nazionale che ormai continua a ragionare all'antico, progrediamo amici, andiamo avanti a testa alta, perché è tutta una soluzione, possiamo uscire da qualsiasi tipo di problema ragazzi, l'importante è volerlo, l'importante è avere possibilità di farlo, speriamo davvero che il calcio italiano da oggi possa ripartire perché ne abbiamo bisogno, e con esso anche tutta l'Italia, perché questa sarà una mazzata dura da digerire per tutti noi ragazzi, ancora non ci credo, ancora non ci credo, se realizzo che quest'estate guarderò i mondiali e guarderò gli altri, e non vedrò il folklore, l'amore, la fratellanza della gente, non sentirò gente che non conosco per strada, vicino a me, che sente le mie stesse cose in quel momento, che sogna anche, saranno cazzate per molti, per me non lo sono, per me non lo sono. Buona giornata a tutti amici miei, andiamo avanti, voltiamo pagina, e adesso pensiamo al campionato. Ciao ragazzi!